Hanno patteggiato la pene, tre rumeni arrestati lo scorso 9 giugno dalla polizia di Canicattì con l'accusa di furto, tentato furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale. Il processo per direttissimo nei loro confronti si è celebrato questa mattina al Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, dinanzi al giudice Ermelinda Marfia. I tre difesi dall'avvocato Diego Giarratano hanno patteggiato pene comprese tra i sei e quattro mesi, in particolare Marius Bacio, di 32 anni, accusato di furto e resistenza pubblico ufficiale, ha patteggiato sei mesi e quindici giorni di reclusione, Silvio Dragoi, di 21 anni, quattro mesi e 200 euro di multa, Marcella Jacopi Jonut, di 24 anni, ha infine patteggiato la condanna a quattro mesi e dieci giorni e 100 euro di multa. I capi di imputazione per questi ultimi due erano quelli di tentato furto e furto aggravato. Per i tre rumeni la pena è stata sospesa e il loro arresto avvenne la notte del 9 giugno scorso. I tre sono stati sorpresi dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì mentre stavano tentando di rubare dall'interno di un'auto inzosta in via Duca degli Abruzzi. Alla vista dei poliziotti i tre hanno tentato la fuga, Marius Baciu venne fermato dopo pochi metri, a seguito di una colluttazione con gli stessi agenti, mentre gli altri due riuscirono a scappare ma furono arrestati poco dopo all'interno delle rispettive abitazioni.